Buongiorno direttore, è sempre lo stesso discorso, continuiamo a lavorare, stiamo anche accelerando ora, abbiamo messo un po' il piede sull'acceleratore per cercare di definire un po' quelli che sono i miglioramenti richiesti al progetto da parte dell'amministrazione nei tempi che si stringono dalla conferenza di servizi e che intendiamo tutti a rispettare. Sono stati chiesti modifiche al progetto? Simox fa parte di una valutazione complessiva che stiamo portando avanti già da un po' di tempo con il Comune per vedere nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e dei tempi della conferenza cosa si può migliorare anche in riduzione. Cosa si aspetta? Grazie. Non mi lascio partare a gennaio. Grazie. Dove va? Al Manchester United. Non mi risulta. Grazie ragazzi. Non mi risulta. Non basta ragazzi. Ragazzi. Grazie.